Buongiorno, allora oggi giornata uggiosissima e grigissima e sono stata da nessuna parte fondamentalmente perché volevo fare una cosa ma poi ho visto il tempo che piove quindi non ho fatto niente ho portato i figli a scuola, ho fatto tutto quello che dovevo fare in casa però questa è una di quelle giornate che proprio non sopporto comunque volevo parlarvi di una cosa, ieri ho provato in palestra power yoga con un'amica sarebbe una sorta di yoga, da quello che ho capito, prendetela con le pinze quello che vi sto dicendo da quello che ho capito dovrebbe essere una sorta di yoga più dinamico rispetto allo yoga normale devo dire che io non gli avrei dato un centesimo e invece mi è piaciuto mi è piaciuto perché tu senti praticamente lavorare i muscoli ma non in maniera aerobica fatemi passare il termine, quindi poi sentite il respiro, vi rinforzate eccetera quindi mi è piaciuto stamattina pensavo che non avrei camminato perché certe posizioni erano proprio una cosa impossibile per me perché non sono particolarmente allenata e invece mi sono accorta che ancora cammino che ancora cammino, mi fanno un po' male le gambe però questo è molto positivo, vuol dire che i miei muscoli hanno lavorato ho scoperto anche che non ho perso quell'elasticità che avevo grazie anche a tanti anni di danza però logicamente essendo stata ferma da prima delle vacanze qualcosa avevo perso invece mi sono accorta che sono particolarmente elastica ancora si può fare, si può fare, con la mia amica alla fine dopo varie riflessioni abbiamo deciso di farlo di continuare questo percorso e se c'è qualcuna che si occupa però insomma che è una addicted come così si dice dello yoga mi può far sapere come è, come non è, come si trova anche se ci sono dei libri in particolare che possono farmi entrare un po' nel meccanismo dello yoga perché a me mi incuriosisce più che altro a livello di filosofia a livello fisico vabbè qualunque cosa mi incuriosirebbe in questo momento perché sono in una fase in cui devo perdere peso quindi comunque qualcosa da fare a livello fisico devo trovarlo però appunto dicevo c'è qualcuna che mi può consigliare qualche lettura al riguardo ovviamente non una cosa complicata, non una cosa pesante ma una cosa per principianti che riesco a capire e poi se, dove posso trovare un tappetino perché io mi ricordo che al Decathlon ce l'hanno però non so come sia io ho due tappetini che avevo preso ai tempi per fare ginnastica a casa ma sono rotti quindi devo riprenderli fondamentalmente quindi mi fate sapere magari se c'è qualcuna che appunto ha provato magari qualche tappetino del Decathlon se sono validi o meno no niente, sono super gasata di questa cosa super super gasata ah, volevo farvi vedere una cosa ho preso il... ho finito finalmente di sistemare la casa per l'autunno e vi faccio vedere aspettate ecco qua questo è il vaso che dove io avevo le pampas che già insomma c'erano più i fiori di pesco ci ho messo stavolta i girasoli questi girasoli li ho presi dal cinese sono molto molto belli devo dire molto molto belli sono la misura più grande infatti mi sono accostati un po' di più rispetto ai girasoli normali però mi piacciono tantissimo insieme alle pampas perché poi, allora, qui ci sono due tipologie di pampas questa qui che è quella che ho preso da casa dal negozio casa questa invece è una pampas anche quell'altra qui dietro, quella lì e questa qui sono delle pampas che ha un... cioè che sono praticamente in una pianta vicino casa mia e mio marito praticamente sapendo che stavo cercando ste pampas me le ha prese e sono bellissime sono molto più piene vedete? molto più piene di queste che ho comprato molto molto più piene infatti mi piacciono tantissimo e poi sono pure più lunghe perché la pianta delle pampas ho scoperto essere un po' come quella del bambù che dite? vi piace? e poi ho fatto un'altra cosa qui ho preso sempre dal cinese queste queste foglie sono delle foglie arancioni che mi piacevano e le ho volute mettere qui sono due mazzetti praticamente due mazzetti ci stanno benissimo perché danno quel tocco di colore poi ora lasciate perdere questa parte cioè se voi togliete questa parte guardate quanto è bello con il mio il mio fatto per mio marito il vassoio con i bicchierini e i suoi preferiti e il bongo e questo cioè guardate levate questa parte guardate che bello cioè veramente un angolino fantastico su sta cassa banca che poi ragazzi ha gli anni che c'ha perché mi ricordo che era a casa di mio nonno questi invece sono i pesi le piastre di mio marito perché di qua mio marito c'ha tutto il suo ambaradan con tutta la roba della palestra vabbè lasciamo perdere lui è un po' fissato e niente niente questo era tutto quello che praticamente è tutta la la disposizione che ah stanno mangiando ok è tutta la disposizione dei autunnale che ho fatto a casa e e niente guardate che bello con lo sfondo così che bello mi piacciono tantissimo i girasoli sono il mio fiore preferito insieme alle margherite e niente di fuori vento e pioggia tutto spiano però non ci lamentiamo perché ho visto che in altri posti d'Italia soprattutto al nord è tutto un po' più incasinato quindi meglio così ok vedo quello che devo fare che mi rimane da fare a parte i panni che però penso che siano ancora un po' umidini eh sì un pochino ancora quindi li lascio ancora tutto oggi e niente oggi speriamo che Ale riesca ad andare a calcetto se no siamo tutto il giorno a casa e mi devo inventare qualcosina se no chi li regge allora volevo parlarvi prima che mi dimentico tra le varie cose visto che visto un po' che sta andando tantissimo volevo parlarvi di Squid Game allora io stavo lo sto guardando ancora non l'ho finito sono al settimo episodio però ho visto che è praticamente dappertutto cioè ci sono compagni di mia figlia che ci giocano su a Squid Game come se fosse in Minecraft ora non so se mi capirete tutti però vabbè però il mio figlio ieri mi ha portato un disegno di Squid Game quello che mi domando io allora a parte crudissimo veramente crudo stile splatter però già ci metti parecchio per seguirlo perché praticamente è tutto sottotitolato perché è in lingua originale coreana però cioè non è che sia positivissimissimissimo diciamo la verità da un'immagine della società un po' così non so se è particolarmente indicato per gli adolescenti perché è un po' ora qui diciamo che il discorso sarebbe un po' troppo contorto però non è un film che ti può un telefilm che ti porta a vive serenamente ecco mettiamola così è un telefilm che ti porta comunque a avere un certo pensiero ok non voglio dirvi tantissimo perché magari c'è qualcuno l'ha visto però essendo particolarmente splatter e essendo che ci sono tante cose all'interno tanti argomenti belli delicati non so se sia il caso di condividerlo e di farlo vedere a degli adolescenti un po' come poteva essere per 13 il telefilm che è uscito spagnolo tempo fa delle 13 cassette della ragazza che si è suicidata che parlava anche di bullismo ecco quelli sono dei telefilm che secondo me affrontano dei temi particolari che da una parte è giusto che vengono affrontati però dall'altra parte possono diciamo portare a emulare se così si può dire quindi squid game lo vedo un po' in quel modo e sto un po' preoccupata perché su telefilm praticamente come vi ho detto io ho visto che lo vedono un po' di compagni di mia figlia che hanno 9 anni e mio figlio ci ha fatto il disegno ora mio figlio ci ha fatto il disegno perché io praticamente lo vedo a casa lui si mette vicino a me perché non vuole giocare da solo si mette vicino a me a giocare con la nintendo e ogni tanto alza lo sguardo e vede i personaggi non è che segue tantissimo però già il solo fatto di averlo sbirciato gli è rimasto in mente quindi un po' come coso come si chiama il videogioco che gli ho allevato perché io gli ho allevato fortnite allora io ho dovuto allevare fortnite dalla nintendo di mio figlio perché praticamente da quando ci giocava era diventato particolarmente nervoso e quindi glielo ho allevato e sono arrivata alla conclusione che era quel videogioco che lo rendeva particolarmente nervoso ora quest'altro telefilm secondo voi sarebbe il caso di metterci magari un vietato ai minori ora io non mi ricordo se c'è devo dire la verità non mi ricordo però non mi sembra un telefilm adatto a degli adolescenti è particolarmente crudo particolarmente splatter e affronta dei temi che secondo me vanno affrontati in un'altra maniera però va bene chi l'ha visto mi può dire cosa ne pensa se anche voi siete entrati nel loop di squid game perché io l'ho iniziato con un'altra idea cioè io l'ho iniziato pensando che fosse un telefilm divertente un po' come tra virgolette divertente un po' come vi ricordate c'era quel quel film quei film serie dove c'è sto stavano io non mi era in mente niente quello lì che andavano sulla montagna russa e c'era quella che praticamente aveva la visione che dovevano morire tutti quanti gli amici ecco me lo immaginavo un po' in questo modo quindi molto fantasioso come cosa no e invece mi sono accorta che è una cosa che potrebbe anche effettivamente succedere nella realtà quello che succede in squid game perché la base diciamo della motivazione che porta a creare questo squid game potrebbe anche essere reale potrebbe anche essere messa in atto sul serio non è una cosa campata in aria così fantasiosa è una cosa reale che può succedere e che succede per via traverse quindi l'ho iniziato con un'altra visione e quando invece ho visto che trattava era fatto in un altro modo era fatto in questo modo e parlava di questo di queste altre cose mi sono un po' domandata se questo telefilm cioè perché questo telefilm perché perché hanno fatto bellissimo per carità è ambientazione fantastica personaggi fantastici vestiti cose cioè c'è tutto un pensiero dietro anche il semplice scegliere i simboli il quadrato il cerchio e il triangolo che sono i simboli che stanno nelle console quindi per carità è tutto studiato nei minimi particolari però proprio perché è studiato nei minimi particolari a me ha lasciato un po' così quindi c'è proprio un ragionamento dietro ora io non l'ho finito sono arrivata alla settima mi mancano tre capitoli vediamo se alla fine c'è una chiusa con un obiettivo diciamo però più più importante che non sia una chiusa semplice di un telefilm che voleva essere solamente fine a se stesso insomma vediamo staremo a vedere se c'è qualcuna di voi che è entrata nel nel circolo squid game e che quindi si è chiusa con il telefilm eccetera eccetera mi fa sapere cosa ne pensa oggi è tutta una giornata di fammi sapere cosa pensi dimmi cosa ne pensi ecco penso che lo intitolerò così sto video anziché un vlog semplice dimmi cosa ne pensi vabbè continuo a vedermelo così magari riesco a raggiungere una logica un pochino più concreta allora sono ritornata a casa che ho preso i figli a scuola ma vi devo dire la verità è un freddo cane ma proprio cane 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 e infatti io ero col giacchetto quello tipo in cerata no quello da pioggia il problema è che avevo freddo quindi mi sa che da domani tiro fuori il mio amato piumino ero tentatissima perché ero tentatissima perché faceva veramente tanto tanto freddo però ho detto no vabbè dai ma ti pare col piumino mi sa che è troppo mettiamo questo invece mi sa che avevo fatto bene perché c'è stata un'altra mamma che invece il piumino si è messo e come ora il problema è che i miei figli non hanno un piumino di quelli leggerini hanno solamente il piumino invernale quindi io non so praticamente come come fare con loro però vabbè in qualche modo farò ho messo ho messo sul pranzo oggi per i bambini rigatoni a ragù per me rigatoni al sugo semplici poi mi faccio una bella insalata con la fesa di tacchino all'interno e c'ho un pezzettino pure di petto di pollo ci picco anche quello così arrivo a grammatura giusta e niente tutto qua e poi mi sa che per oggi il calcetto salta perché è particolarmente piovoso e nuvoloso non so se riuscite a vederlo aspettate è particolarmente piovoso e nuvoloso ecco qua vabbè non si vede ecco qua cioè è veramente brutto poi piove in continuazione cioè è un casino vabbè fatto sta che se Alessandro non deve andare a calcetto ho pensato di fare una cosa ho pensato di fare una sorta di pomeriggio cinema che a loro piace tantissimo gli faccio i i popcorn e ci vediamo un film di Halloween che ho visto che su Disney fanno una sorta di o su Netflix ora non mi ricordo però nel reparto nel reparto nel reparto bambini nella parte quella dei bambini praticamente hanno fatto una raccolta delle cose di Halloween dei film di Halloween penso che sia su Disney però perché mi ricordo che c'era Ocus Pocus Ocus Pocus è uno dei miei film di Halloween preferiti perché è quello che io mi ricordo che guardavo da piccola e mi ero impazzita per Sara Jessica Parker cioè la Carrie di Sex and the City che in questo film fa una strega sbampita fantastica e a me mi piaceva da morire da piccola e quindi niente mi piaceva era il mio film preferito di Halloween e poi loro sono riuscita a trovarlo su Disney l'ho fatto vedere gli è piaciuto tantissimo anche a loro poi abbiamo visto anche altri film però questo rimane sempre il mio preferito e poi viene ovviamente il film di Tim Burton Nightmare Before Christmas che sì è un film che parla del Natale però effettivamente è un film che parla anche di Halloween perché Jack Skeletron è una zucca a tutti gli effetti uno scheletro con una zucca uno scheletro perché con una zucca perché confondo un altro film dove c'era il corpo dello scheletro con la zucca vabbè lasciamo perdere e niente adesso appunto preparo il pranzo mangiamo compiti perché quelli ci stanno sempre ormai sono diventati una routine quotidiana i compiti compiti che poi ce ne hanno pure parecchi soprattutto Alessandro ce ne ha tantissimi dei compiti però diciamo che li fa veloci ah devo chiedere Aurora comandata l'interrogazione di scienze aspettate andiamo a chiederglielo in diretta Aurora che c'è com'è andata l'interrogazione di scienze bene bene che vuol dire ti ha messo un voto si meno male che glielo ho detta tutta eh che voto ti ha messo adesso rimette i voti non mette più i giudizi eh che voto ti ha messo non mi ricordo perché non me l'ha detto guarda non avevo alcun dubbio che non ti ricordavi non me l'ha detto non me l'ha detto tu resetti tutto resetti vabbè vabbè però andata bene ok vabbè sì ma io ma c'è c'è me c'è giocavo quello che vi pare che lei non ha non si ricordava ma cioè il mio giusto è stato questo vabbè ho fame quando è pronta sta pasta ho fame 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E adesso se sentite gli strilli stanno giocando con la Nintendo e Super Mario E io mi sono presa sti 5 minuti di pausa proprio per riprendermi Mi sta praticamente calando l'occhio Nel senso mi si sta chiudendo per la stanchezza E questa è una cosa che a me ultimamente non succedeva più Adesso mi succede Quindi non so come fare Non so se... Cioè so che è una questione di stanchezza proprio perché La sera vado a letto tardi Tra una cosa in altra Sistema Sta un pochino pure col marito Perché logicamente purello Non stiamo mai più insieme perché Lavora tutto il giorno Esce alle 9 di mattina Riparte a 8 e mezza a 9 Ritorna alle 8 di sera Quando è una cosa decente Alle 7-7 e mezza Quindi niente così Stiamo praticamente quell'oretta e mezza a 2 sul divano O sul letto A guardarci la tv a chiacchiera un attimo Perché se no Io non ho una vita sociale A parte i miei figli E niente Io penso che questo vlog lo terminerò qui Perché Io e mio marito abbiamo il passato di verdura a cena Che già ho il minestrone pronto Devo solamente brullarlo E ai figli farò una minestrina al volo Con l'olio e il parmigiano che a loro piace L'inverno amano questa cosa Poi noi abbiamo delle verdure grigliate così al forno Loro gli faccio Gli do un po' d'affettato Faremo un po' d'affettato Devo ricordarmi di tirare poi il pane che è congelato E niente E poi basta Basta perché so finita Domani fortunatamente a venerdì finisce la settimana Poi c'è sabato E poi c'è domenica Mi hai detto che dopo il sabato c'è la domenica Chi l'avrebbe mai detto A me queste settimane stanno volando Io non so voi ma a me stanno volando Domani sera non so se riandrò a power yoga Devo un attimino valutare Se no ci vado sabato mattina praticamente E niente Detto ciò io ho già bladerato abbastanza Anche senza senso visto che è considerato la mia stanchezza Penso che vi starò facendo anche da sonnifero Quindi vi saluto qua Questo vlog che non ha avuto un senso Che è stato un vlog proprio semplicissimo Senza fronzoli senza cose E' uscito così Io lo sapete vi faccio vedere tutto quello che succede nella mia vita Sia quando ho le cose impegnate Con magari delle cose particolari O delle cose divertenti Sia quando invece non faccio niente E mi occupo semplicemente della mia famiglia Perché questo è quello che faccio Io non lavoro Io mi occupo solamente Cioè solamente Io mi occupo della mia famiglia Quindi non lavoro Non vado in ufficio Non ho un negozio Non faccio assolutamente niente di tutto questo Sono una casalinga E lo dico a lettere cupitali E anche con una certa E anche tranquillamente lo dico Non è che me ne faccio una colpa Insomma Vabbè È stato un piacere Vedete che ho finito E bladerà pure Dalla stanchezza pure su cose Che sinceramente non so quanto mi interessano Va bene È stato un piacere Un bacione Al prossimo video Prima di salutarvi Ovviamente Iscrivetevi al mio canale Così che mi aiutate a crescere Mettete un like Se questo video vi è piaciuto Commentate qui sotto Con qualunque cosa Anche con un semplice ciao Io sono super contenta Ultimamente mi sono arrivati In commenti di persone Che mi seguono Da quando addirittura Io ero a Roma ragazzi E quindi stiamo parlando Almeno di più di dieci anni fa E sono contentissima Mi fa molto piacere questo E Siamo in pochi Mi rendo conto Però meglio pochi Che niente Come si dice Pochi ma buoni Io vi ringrazio Di seguirmi assiduamente Spero di poter Riuscire a far crescere Questo mio piccolo canale Nella mia semplicità Vi mando un bacione E ci vediamo Al prossimo video Buonanotte Buona serata E buongiorno Se qualcuno guarderà Questo video di giorno Buona serata E buongiorno Grazie.